Non c'è nulla da fare, quando poi bisogna essere concreti, decisivi, quando poi c'è da portare a casa la pagnotta, chi la porta a casa la pagnotta? Chi ha fame, chi si sente affamato, altrimenti della pagnotta te ne sbatti altramente. E Felipe Caicedo lo è! In 15 minuti fa più lui che gli altri due attaccanti che sono usciti e che hanno dimostrato ben poco in tutta la partita. Onestamente, Felipe Caicedo, ancora lui, porta a casa i tre punti, ma non solo lui, attenzione, attenzione perché di cose da dire ce ne stanno, lo facciamo subito. Prima però vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale, volete altri video su partite che magari non siano di cartello, quindi oggi parliamo della Lazio, del Crotone o altri video del genere. Se ci siete, fatevi sentire, iscriviamoci al canale, altrimenti se me la canta e me la suon da solo, a sto punto, che se non serve a nulla. Quindi mi raccomando, fatevi, iscrivetevi e lasciate un like, perché è gratuito, non vi costa una mazza, una mazza, una mazza. E in più sentite sto scellerato parlare di quanti più partite possibili, ecco, diciamolo pure. Da dove partiamo ragazzi? E ce ne stanno di cose da dire, perché 5 gol, quindi partita anche bella da vedere, ma bisogna dire, 5 gol è sinonimo anche di poca, di errore. Ci sono stati tanti errori, ci sono state tante cose che non hanno funzionato, ma tanti anche gesti tecnici pregevoli. Se penso al gol di Simi, un gol di punta bellissimo da calcetto, è quella la classica giocata che ti fa l'attaccante di calcetto. Pam, la puntina bella che si va a ficcare lì, nell'angolino basso. Quindi un gol ricercato, voluto in quel modo, è trovato. Quindi onore, onore, onore a lui. Poteva essere marcato meglio, poteva non avere tutto quello spazio, certamente sì, però così non è stato e fa gol. Se vogliamo, partiamo con ordine però, perché altrimenti non ci capisco una mazza. Primo gol della Lazio, Milinkovic e Savic in aria, lasciato libero per quasi tutta la partita e le paghi, e le paghi. Anzi, oggi Milinkovic doveva farne tre di gol, ne fa solo uno. È il primo che comunque è molto bello, tecnicamente pregevole, ma se uno come Milinkovic, che oltre ad essere forte fisicamente e anche tecnico, gli dai, gli concedi tutto quello spazio, è normale che ti purghi, è normale che ti purghi. E ha lasciato il crotone tanto, tanto, troppo, troppo spazio e ti buca subito, ti bucano subito. Poi, l'abbiamo detto, il gol del pari. Il 2-1, che comunque è il solito Luiz Alberto che ha fatto una partita sontuosa, sontuosa. E su Luiz Alberto, ragazzi, mi devo fermare di nuovo, perché il telepronista parlava, compagnone se non sbaglio, parlava di zero assist. Ma se Luiz Alberto in questa stagione ha in saccoccia zero assist, no? Zero assistenze, c'è un problema grave. No, no, davvero, ragazzi, non si scherza e non si gioca, c'è un problema grave. E il problema non è sicuramente Luiz Alberto. Perché anche oggi, anche oggi, almeno tre palle che andavano solo spinte verso la porta. Almeno oggi tre palle clamorose servite proprio a dire, tiè, devi solo bucare la rete. La prima su Immobile, che con un lancio di 30-40 metri lo imbecca perfettamente. Immobile, non capisco perché, vai, 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 se ne va verso l'esterno della porta. Due palle lodevoli verso Milinkovic e Savice, che bravo Luiz Alberto, bravo Milinkovic, diceva il telepronista a toccarla. No, lì devi stopparla e la devi sbattere dentro con tutta la forza che hai. Prima ancora quella di testa, uno come lui, la devi insaccar dentro. Lì sono stati due errori clamorosi di Milinkovic. Uno come Milinkovic è solitamente più preciso in quelle circostanze. Ma si può sbagliare. Ciò non toglie che le due assistenze sono state di una roba, di una roba veramente lodevole, come dicevo prima. Due passaggi proprio precisione, precisione, come si dice? Chirurgic, proprio mamma mia, messe sul piedino e sulla testa, a dire spingi e fai gol, fai male. Ecco, quindi il problema non è Luiz Alberto, che anche oggi da destra a sinistra, dribbling, spazi, creava il panico, lo scompiglio, un terremoto in mezzo al campo, un terremoto. Un giocatore inarrestabile e quindi se lui fa zero assist bisogna tracciare un punto interrogativo grandissimo, onestamente. Ma levato questo, ragazzi, il Crotone poi ritrova il pari. Ritrova il pari perché comunque manca equilibrio nella Lazio. Per quanto la Lazio sia una squadra che, secondo me, propone un calcio che a me piace, l'ho sempre detto e lo ribadirò all'infinito. Il gioco di Inzaghi, il gioco della Lazio piace, a me piace tantissimo. Ma dietro concede, concede credo troppo. E non credo sia una questione tattica. Forse anche, ma per lo più i singoli. Cioè, i singoli, se penso al rigore concesso, mi viene da dire una cosa molto semplice, che non voglio offendere. Però, per la competizione, io penso che fare sia scarso. Semplicemente questo. Perché se tu concedi un rigore del genere, secondo me sei scarso. Non c'è da aggrapparsi sugli specchi o da trovare altre scelte. Lì, è tutto vero che casualmente, casualmente nasce un gol, no? Dove Simi perde il tempo, cerca di assistere il compagno, e invece sbaglia completamente il passaggio e se lo ritrova. Si vede anche nella movenza del corpo di Simi, che dice la miseria. E invece va a trovare un messias, se non sbaglio era messias, sì, o un ass. No, ma è messias dove, che sicuramente è un bolide, velocissimo. Ma è dietro anni luce a Fares, eppure gli ruba il tempo, eppure gli, cioè, gli passa avanti. E Fares, cioè, che fa? Sta a dormire, sta a guardare. È connesso, è concentrato. Non puoi concedere un rigore del genere, altrimenti per la categoria sei scarso, a mio modo di vedere. Semplicemente questo. E quindi sono tutte queste cose che poi si pagano. Che poi si pagano, indubbiamente sì. È come se lo fanno. Poi è entrato Kei Sedo, molta più imprevedibilità lì davanti, se vogliamo. Immobile e Correa. Correa oggi è un fantasma praticamente in campo, un fantasma. Immobile non è che abbia fatto di più. Cambiata le due punte, più imprevedibilità. Lo stesso Pereira, comunque, anche lui, secondo me, nonostante sia stato impreciso in un'altra situazione, ha dato qualcosina, qualcosina in più. Poi va detto che, bravo Kei Sedo, ma anche il gol della Lazio nasce anche quello, diciamo, in qualche modo fortuito. Perché un tiro, non ricordo se è di Pereira o Iscalante, bloccato. Lì c'è stata la giocata comunque tecnica, poterosa di Kei Sedo, che comunque riesce a bloccare la palla e a sbatterla dentro. Ragazzi, una Lazio che vince, è importante questo, ma c'è tanto da lavorare per la squadra di Inzaghi. C'è tanto, c'è troppo da lavorare. Poi va detto e vanno fatti complimenti anche al Crotone. Attenzione, una squadra che comunque cerca di giocarsela. A me piace, a me piace un As che poi aveva lanciato in porta, se non sbaglio, Rispoli e sul pari là aveva avuto un'occasione clamorosa il Crotone. Un As, Messias, lo stesso comunque Simi. A me piace, è da una vita che dico che il Crotone piace, però sono lì, ultimi in classifica e un motivo ci sarà pure, credo proprio per la fase difensiva. Poi, anche se poi in passato erano anche poco concreti sotto porta, dalle, 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 poi i risultati parlano chiaro. Vedremo, vedremo un po' se Serse farà in miracolo. La vedo improbabile, la vedo molto dura, ahimè. La vedo molto, molto dura. Baldi Giovani, fatemi sapere cosa ne pensate voi, ovviamente e quindi vi avvito, vi invito, vi avvito, vi invito in massa a commentare sotto, quindi scatenatevi, lasciate un like, iscrivetevi al canale perché è gratuito, cacchiarola, e ci becchiamo per il prossimo video. Un grande abbraccio, da Neschio. Grazie. 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 Grazie.